Fasina fa la sua partita politica, spera che questo sistema elettorale proporzionale spappolato che è uscito dalla sentenza della Corte Costituzionale paralizzi il sistema politico italiano e quindi dimostri che la segretaria Renzi non funziona. Io credo che la maggioranza degli italiani vogliono solamente alcune cose dal sistema elettorale, che si sappia la serie delle elezioni chi ha vinto e che possibilmente, come accade nei comuni, salvo casi eccezionali, si possa governare per 5 anni di seguito e in più avere la possibilità di scegliere i propri rappresentanti con un sistema appena decente. Non si pretende chissà che. Però questo sistema non lo garantisce. Questo sistema ha questo punto di debolezza ed evidentemente c'è Berlusconi da un lato, parliamoci chiaro, che ha paura di un eccesso di libertà nella scelta dei deputati e noi che stiamo subendo questa prospettiva. Al prossimo giro così anche Renzi può lasciare la minoranza fuori dalle liste. Ovviamente ogni elazione è legittima. Ogni elazione è legittima. Non è un elazione, è un fatto. È un fatto. Ma lei non si è vergognato sabato quindi come fa? No, guardi, non mi vergogno da parecchio io.